. Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 6 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Giornata internazionale della diplomazia. Non è vero, non sta scritto in nessun calendario ma ogni volta che la luna transita nel vostro segno, e oggi lo fa in buona amicizia col carismatico Plutone in segno d'aria intrigono al vostro, la delicatezza diventa un must, soprattutto nei confronti del partner e dei figli, ipersensibili e pronto a tenervi il muso per ogni sciocchezza. Nemmeno il vostro capo, alias Marte allo Zenit si presenta con lo ramoscello d'ulivo, anzi fin dal primo mattino vi appare su di giri, sfoderando davanti ai vostri occhi basiti una lista di incombenze che sembra non avere fine. Dura la giornata lavorativa con Saturno in sesta casa, ma poiché ormai siete entrati nell'ottica stringete i denti e tenete duro, pregustando già la vostra vacanza, che inizierà da qui a pochissimo. Consiglio spassionato dalle stelle, lasciate a casa tablet e smartphone, l'irreperibilità costringerà qualcun altro, almeno stavolta, a sostituirvi, lasciandovi a rilassarvi in pace in qualche bel borgo o in una splendida città d'arte. Sopravvento di scrupoli e rimorsi, vi sentirete in colpa per quanto vi è successo in passato o di recente. Tuttavia il vostro comportamento non vi sembrerà alla fine ingiusto. Ma potreste incorrere in altri errori soprattutto a persone che si presenteranno a voi come candide persone, ma in realtà sono pronte a sfruttarvi e a mentirvi. Prudenza e perspicacia necessarie. Attenzione oggi potrebbero esserci seri problemi sul lavoro o nello studio, Marte si schiera contro a muovervi guerra anche se poi. Passerà. Ritroverai qualcosa che avevi perso. Ottime prospettive per contratti e assicurazioni.Successo nel sociale. Discreto fascino. Il verde ti donerà in modo particolare. Cose belle, comode e buone ti attireranno. Riceverai molto affetto. Oggi cercate di soffocare quei sensi di colpa che riaffiorano con frequenza, in ogni caso provate a distrarvi, concedendovi delle ampie pausa, e cercando di guardare oltre. Vittorie con un'attitudine positiva. Sconfitte se sarai pessimista. Esaltazione o depressione o entrambe le cose. Forte immaginazione. Ottime opportunità nel lavoro. Potrai guadagnare soldi in più e in meglio. Un collaboratore o un amico ti farà una proposta interessante. Ascolta con attenzione. Quando hai una convinzione, ci credi fino in fondo, non tanto per fiducia in te stesso, quanto in una forza più potente di te che, in qualche modo, ti anima e ti vive dentro. Sei estremamente complicato, serio e impegnato. Decisione importante da prendere collegata a una proposta che vi è stata fatta o vi sarà fatta, accettare o meno dipende da voi e dalla vostra disponibilità. Siete artefici del vostro futuro. Se credete che la vostra relazione extra sia in crisi è venuto il momento di riconsiderare tutta la vostra vita e cercare di renderla finalmente viva e felice truncando rapporti inutili e dannosi. Notizie in arrivo. Qualcuno potrebbe telefonarvi inaspettatamente e potreste restare in imbarazzo poiché dovrete dare risposte certe e velocemente. In questa giornata dovreste ascoltare un po' di più il vostro istinto, piuttosto che dare retta a ciò che la gente vi dice. I vostri sentimenti su una relazione importante ma irripetibile meriterebbero di essere elaborati e archiviati una volta per tutte. Non lasciatevi cogliere dal panico, avrete problemi nel lavoro. Non è realistico che lavoriate così tanto, non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità. Transiti planetari belli con, tra gli altri, il lieve disturbo tecnico del team Marte, Sole, Giove nel segno del cancro e della riete, a provocare qualche lieve incrinatura del tono. Niente di grave, avrete modo di riprendervi con grande energia. Protagonisti con la Luna nel segno amica di Plutone, enigmatico e potente, non di Marte però che dallo Zenit vi bacchetta col suo frustino di betulla, come facevano gli antichi maestri con gli allievi indisciplinati. In effetti con Saturno in sesta casa il vostro impegno oggi non è quello di sempre, andate a rilento facendo infuriare il boss, aliasi il pianeta rosso che invece vi vorrebbe veloci e i deficienti. Ma si sa, quando si è innamorati, e con il Sole e Giove all'opposizione succede, tutti gli altri impegni passano in secondo ordine. Amore ed Eros. Teneri col partner, sempre affettuosi con i vostri figli, vi sembrano crescere a vista d'occhio e già il coniglietto di Pasqua e le uova con sorpresa per bambini cominciano a sfumare dietro l'orizzonte. Forti tensioni, come prevedibile, con mammina e la suocera, che già vi hanno precettati per il pranzetto di Pasqua e Pasquetta. Peccato che voi avreste avuto altri programmi ma. Per pieto vivere finite per acconsentire. Fortunatamente aprile riserva altri ponti e quelli almeno non ve li farete scappare. Fortunatamente per voi, è il momento dell'armistizio con il partner. Oggi, appoggiandovi al vostro consueto ottimismo, ripartite con il passo giusto. Buone notizie. Avete grinta ed energie che vi sostengono. Il vero porto sicuro saranno oggi gli affetti con la A maiuscola, da quelli familiari a quelli sentimentali più intimi, dagli amichevoli alle conoscenze avvenute da poco, verso cui troverete approdo e ristoro dalle preoccupazioni quotidiane. Siete così bravi da riuscire a concertare tutto il vostro mondo affettivo canalizzandolo in momenti intensi e di corrispondenza comunicativa profonda. Tutto questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 29 del mese di settembre. Lavoro e denaro. Sarà la stanchezza o soltanto ribellione nei confronti del capo che si crede in diritto di spremervi come limoni, ergendosi sul proprio scranno come un cobra pronto a colpirvi. Amate il vostro lavoro, specie se presenta un lato creativo, ma le coercizioni non fanno parte del vostro immaginario, le regole ce le avete scritta nel cuore, non imposti dall'alto, conoscete i vostri doveri ma anche i vostri diritti. Finanze al sicuro grazie a un comportamento lungimirante. Guardare oltre la superficie per trovare il significato nascosto nelle parole e nelle azioni delle persone. Qualcuno sta cercando di avvicinarvi usando sottigliezze e lusinghe. Non fatevi ingannare. Un nuovo giorno in cui vi potete dedicare in serata al tempo libero e coltivare le vostre passioni più autentiche. Non dimentichiamo che siete un segno artistico e, a tutto tondo, governato dalla luminosa Venere e dunque la passione per l'arte in tutte le sue forme vi prende, colmandovi di un desiderio di creare e di stupire il vostro prossimo. Dal design, al cinema, dalla moda alla grafica, siete un proliferare di iniziative e di idee sempre nuove e infelice espansione. Benessere. Emicrania di natura nervosa o digestiva, per consolarvi di una frustrazione finite per ingollare velocemente qualcosa di buono ma pesantuccio, col risultato che l'irritazione non passa e in compenso ad accompagnarla arrivano altri malesseri. Stanchezza primaverile e un filo di mal di schiena, tutti malanni che passeranno non appena staccherete la spina concedendovi il giusto riposo. Non siete mulinati per tirare il carretto, ma delle persone che lavorano con piacere e con identico piacere si svagano, si acculturano, viaggiano, amano. E se il boss non lo capisce, fatti suoi. C'è un club di libri a cui vorresti aderire. Il volontariato ti chiama? Forse conosci qualcuno che inizierebbe a frequentare lezioni di yoga con te una volta a settimana. Gli effetti dello yoga sono profondi. Per lei, arrabbiate con i vostri figli che vi fanno disperare, al punto che li minacciate di lasciarli parcheggiati dai nonni a fare i compiti mentre voi e il loro padre andrete beatamente in vacanza da soli, come sposini in luna di miele. Per lui, la gelosia della vostra lei comincia a starvi stretta, l'amate tanto e sapete che è una persona speciale, ma è afflitta da un difetto per voi insostenibile, se manca la fiducia manca tutto, fate il possibile per farglielo capire. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.